Noi dobbiamo cercare di finanziare quelle che sono le misure già esistenti di sicurezza. Abbiamo la polizia che non è in grado di pagarsi la benzina per le auto, quindi questi soldi vanno destinati a chi deve combattere sul territorio questi problemi. Abbiamo sentito dell'esercito in questi giorni, ma sappiamo che vengono a mancare sempre di più i fondi. I soldi ci sono, vanno destinati alla sicurezza e noi sappiamo dove andare a trovarli. Ripeto, recuperandoli da questi sprechi di corruzione e potremo andare a usarli per noi e per la nostra sicurezza.